musica 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 ma porca puttana dell'elicottero ora la butto una scarica a questo musica 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 ah dove vai? vai a morire ammazzato vai elicottero l'elicottero questo coglione di merda si si musica 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 morite tutti Morite L'elicottero è in fumo Mamma mia Che azione Per un centimede Dove sono visto l'elicottero? Non c'è Stanno facendo Stanno facendo Non glielo facciamo fare Mister reg a questi Raga andiamo 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 Mister reg del cazzo MADDIO POR Non sono facendo Eh vabbè Potremmo entrare Dai Non c'è lì sta reg Non mi fa entrare Nessuno E si sono chiusi già Eccoli dentro Che cazzo Non riesco a ruggire Urta le cremi Come cazzo Mamma mia Che merda Che erano questi Che schifo Non mi ha visto Nemmeno passare Questo non mi ha visto Puro Guarda quest'altro Guarda quest'altro Non mi ha visto A quest'ora Non vedono Le persone Ecco uno qui Dietro 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 Cazzo raga E mi ha messo a terra Oh come si muove veloce Sto madonna Umana Sto madonna Umana Sto madonna Porca giù No Mi risocio Mi risocio Mi risocio Mi risocio Mi risocio Mi risocio Ma perché? Cioè Ma che cazzo È un grillo Era questo qui Non era un umano Piero Inizia Piero Inizia L'entrazione No Uno Uno Adietro sta Sì È muore nel gas 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 alla fine ma cazzo avete visto che ho combinato ma dove non mi ha visto ma dove cristo stavate ma raga ma l'avete visto quello che non mi aveva visto manco io l'avevo visto stava lì fermo non faceva niente si è incastrato ora ho capito è incastrato stavo un incastrato lì non si muoveva ma è mai in cazzo uno qua anche un altro arriva ragazzo devo fare con i pugni sono andato preoccupare anna sei morto fra orca misere per poco non potevo fare nulla prenderlo giù però sono morti tutti e due cattroia fatto una bella azione però dai cattroia zona di merda eccolo e dai madonna ladra e che cazzo e dai oh ma quando me li ritrovo davanti oh mamma mia non si vede ciao tu qua davanti ce l'ho ma tu dove sei cazzo ho visto un in open no perchè non mi hanno visto un po' avanti una terra una terra si è arrestato questo mamma mia mamma mia che l'ho combinato mamma mia mamma mia che l'ho combinato a questi mamma mia ci credo non era salito sul camion no è giù è giù è giù è giù oh da dove è arrivato ma dove cazzo è arrivato è giusto modo di salire brutto ladro di merda giusto modo di salire che mi son girato l'altra parte eh scapola vediamo se di meglio qualcosa qua dentro sta piena di gente scusa ma chi ti stava sparando grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti